Questo per andare a Napoli dove c'è Alessandro Iovino che ha scritto un libro Grazie Bud Praticamente Spencer tra fede, filosofia, amore per Napoli e anche racconti di vita Ci vuole spiegare Iovino quel grazie, perché grazie Bud? Beh dottor Mazzurlo praticamente dal racconto dei familiari emerge che l'ultima parola Di Bud Spencer sia stata prima di andare via grazie Voleva ringraziare la vita, i familiari per tutto quello che ha vissuto Io da fan ma anche da giornalista che per ultimo ha intervistato Bud Spencer Ho voluto omaggiarlo attraverso questo libro che è un atto di gratitudine Verso un mito e non voglio smentirla dottor Mazzurlo Ma deve sapere che il mito di Bud Spencer è trasversale e attraversa generazioni Io mi accorgo che ci sono oggi adolescenti che conoscono e amano il gigante buono E infatti Maria Vittoria che adolescente proprio non è lo conosce bene Va bene in bocca al lupo anche al suo libro e quindi Bud Spencer amato ieri, amato oggi, amato sempre, amato domani Si può dire così io, no? Si può dire così e lasciatemi concludere anche con la filosofia di Bud Spencer Quando entrai nel suo salone di casa mi fece accomodare, mi fece ascoltare il suo brano inedito Foot Ten, che in napoletano in realtà è un atto un po' di leggerezza E oggi ne abbiamo bisogno in questi tempi più che mai Che vuol dire fregatene in un certo senso Eh sì, proprio così, un po' di leggerezza Bud Spencer era un buon gustaio, Alessandro, anche lei mi sembra sia un buon gustaio Dico bene? C'è qualcosa che accomuna lei a Bud Spencer? Lo si vede chiaramente e consideri che io quando andavo a casa sua Gli portavo le sfogliatelle napoletane che lui amava Appena la signora Maria, la sua carissima moglie, andava via Io e Bud Spencer mangiavamo sfogliatelle insieme Quindi per ricordare anche con una nota di colore Questo grande personaggio napoletano ed italiano Così amato e conosciuto nel mondo Cinque film usciti questa settimana Ne parleremo di un po' di